Buongiorno a tutti, in tanti ancora continuano a chiedermi se il pagamento per l'assegno di inclusione ADI avverrà sempre sulla carta, quella la gialla del reddito di cittadinanza. Ne abbiamo parlato già in tantissimi altri video messaggi. La carta del reddito di cittadinanza, quella la conservate come indicato da Inves con la circolare 4179 per alcuni mesi perché dovranno arrivare oltre ai pagamenti dell'assegno unico alle persone che non hanno fatto domanda, quindi arriverà ancora sulla carta gialla del reddito di cittadinanza. Dovranno arrivare ancora pagamenti per arretrati e con guagni. Per l'assegno di inclusione ADI, lo ribadisco ancora una volta, verrà emessa una nuova carta post e pay prepagata e lì verranno caricati gli importi per l'assegno di inclusione ADI. Si intende che le persone che avranno domanda accorta saranno invitate a recarsi presso gli uffici postali per ritirare questa nuova carta post e pay prepagata dove troveranno l'importo corrispondente all'assegno di inclusione ADI. Quindi verrà emessa una nuova carta. Grazie a tutti.